Riccardo Mazzoni, l'Italia chiude il suo europeo al settimo posto, le tue considerazioni finali? Abbiamo sbagliato la partita di ieri che secondo me era più importante di quella di oggi però ormai il destino ci ha riservato questo e siamo contenti comunque del settimo posto e proveremo a fare meglio le olimpiadi che andremo a fare a luglio Se c'è qualcosa che tu potessi rifare, cosa rifaresti? La prima partita con il Belgio Cos'è? Che cosa è mancato lì? Troppa agitazione in campo, non eravamo sereni e loro gli veniva tutto e a noi purtroppo non molto Ok, grazie